In America è stata lanciata una grande giornata di mobilizzazione mondiale, in cui in tutte le piazze italiane, europee, di tutto il mondo, gli ingegnati scenderanno in piazza, occuperanno le piazze, occuperanno le strade, per dire ancora una volta che non pagheremo noi questo debito, non pagheremo noi il debito che non per cento l'ha creato. Anche in Alessandria, l'11 di novembre, in piazzetta della Lega, saremo in tanti, saremo colorati e saremo in tanti per costruire un futuro diverso. Abbiamo un sacco di proposte da fare, la prima proposta non si può tagliare a quelli che sono i diritti. Noi pensiamo che se vogliamo uscire realmente da questa crisi è necessario guardare i diritti, è necessario vivere il tutto per vedere la crisi.